bravi bravissimi bravissimi tutti l'ultimo bravissimi bravi bravi sabato di agonfurove vai massimo il re dei boschi bravissimo ma vuoi fare un pezzo di pizza sta alla fine bravissimo bravi tutti i ragazzi i ragazzi dei boschi bravissimi tutti brava la fotografa bravissimi vai salvo è finita l'ultimo mezzo miglio bravissima guardati qua ti faccio una foto una ripresa bravissimo vai 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 brava la fotografa bravi quelli che corrono bravo i tutti bravissimi i migli 60 quelli che corrono 60 i più belli vai Sandro bravissimi questi due ragazzi bravi 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 bravissimi che è successo tutto a posto tutto a posto che? dai che è finito bravissimi 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 ecco che passano sotto l'arco di Nemi l'arco di Treon bravissimi vai Simona vai vai Simona l'ultimo pezzetto di miglio bravissima grande grandissimi tutti bravissimi 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 l'ultimo pezzettino di miglio su bravissimi sotto l'arco di pensate di stare sotto l'arco di Treon bravissimi 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 tutti bravi vi siete divertiti? quanto siete contenti della corsa? come è andata la corsa? bene vedi allora sei uno forte questa è la quarta edizione bravissima è stata bella la gara? le rocce è stata bella? le rocce è stata bella? una meraviglia bravissima sull'ultimo pezzettino di miglio ti è piaciuta la gara? si bellissima vabbè vedi hai cominciato bene però con bel percorso come vanno le foto? bene? bravissima si l'ultima curva vai giulio vai bravissimi lo metto al centro grazie grazie vai giulio grande giulio grande anche la signora bravissima grazie l'ultimo pezzettino bravissimi che bravi questi ragazzi sei meglio ecco la nostra carissima come è andata? ecco qui tutte sane e salve la testa a posto? ecco qui bravissima com'è stata la gara? bella? bravissimi ragazzi bravissimi da Sabaudia dal mare ai monti bravissimi grandi grandissimi bravissimi 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 bravo bravo Grazie a tutti.